Ma chi sta arrivando dietro di me? Ma che bei ragazzi, il signor Matioschi e la sorelloschi stiamo per entrare... No, a dir la verità l'abbiamo già visto, Killers of the Flower Moon, da non confondere con l'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio, perché così... Detto ciò, allora, Scorsese, è tornato Scorsese dopo tre ore e venti di visione, caro Matioschi... E ventisei. E ventisei, e ventisei. Io avrò poi la possibilità di parlarne più a lungo nella mia recensione personale, però vorrei partire dal signor Matioschi. Ne stavamo parlando insieme, quindi sarò rapido. È sicuramente un film meritevole, perché la storia è interessante, gli attori sono bravi, c'è una bella costruzione delle scenografie, dei costumi, non si può dire che sia una roba brutta, però secondo me... È raccontato nel modo più piatto e blando possibile. Non ha guizzi, non ha momenti di patos... Lo sai, è vero che ti stai mettendo contro... Sì, sì. E io così ti voglio. Esatto, questa storia nelle mani di qualcun altro diventava una bomba, così un po' una fialetta non puzzolente, perché non puzza, ma che fa un pochino di fumo. È come se tu aspettassi costantemente che sto film metà la quinta e non arriva mai. È sempre in prima, è un viaggio in prima lungo tre ore e ventisei. E ci sono cose che ti dovrebbero far dire, oh, e a me non fregava niente. Allora, all'intervallo ti ho visto parecchio disorientato, poi forse... Sì, ma perché ci sono, lo ripeto, degli spunti, dei risvolti. Parlavamo di una soluzione che ovviamente non rivediamo, carina, per fare la cosa che fanno sempre le storie vere. Bello, però anche il... ti fanno vedere delle cose, Scorsese sceglie di mostrare di retroscena, che poi vengono spacciati come grandi rivelazioni. Me l'ho già viste, lo so già, ho già capito, è inutile che vai avanti a rimestare. E purtroppo mi tocca dirlo, durava due ore, era molto più bello. Sorello, lei è d'accordo con il fratello un po' cattivo stasera, io ancora non ho detto niente. Ma sta cercando di essere buono in realtà. Anche perché se no già sul web, provare a dire Scorsese... Ma si fa niente, tanto già oggi... Ma tanto sì, ma già, già, è bello così. Sorelloschi, lei che aveva anche delle aspettative, diciamo... No, il film è bello, la trama è interessante, però Dubal, proprio... Allora, è come... stiamo facendo la retrospettiva... È sempre più cattiva di me, voi pensate che lei sia più tenera. È come se avessi preso un pugno prima da Apollo Creed e poi da Club Erleng. Cioè, io mi faccio piccolo piccolo e dico in poche parole, che per me invece è stato straordinario. Cioè, io come vi ho detto, lo rivedrei. Non adesso, perché ovviamente si è fatta una certa. Però già non vedo l'ora di tornare in sala, perché questa storia, come viene raccontata, quello che non è piaciuto a lei, signor Matioschi, a me ha proprio lasciato a bocca aperta. Anzi, ti dirò, seppur la trama sia semplice, ma nella sua semplicità efficace, è proprio la forma che secondo me crea tantissimo contenuto. Cioè, la piattezza non l'ho sentita. Poi, diciamoci la verità, è anche una questione di percezione. Sotto di noi c'erano dei ragazzi che addirittura lui a un certo punto fa... Io non ci sto capendo niente. Ho detto, cavolo! Eppure vuol dire proprio che di punto preso non lo voleva ascoltare. All'intervallo sentivo, ma mi aspettavo una roba diversa, mi domando quale. Perché una cosa si può dire, il punto lo rimarcano più volte. Quindi dire, piuttosto dici, non mi piace, ma non lo sto capendo. Ho detto, porca miseria. Poi si lamentavano per i troppi personaggi che non fate vedere Oppenheimer. Ecco, non guardate Oppenheimer. Quindi io, e poi ci salutiamo, sono con gli occhi ancora a cuoricino. Poi specifico, è sufficiente. Per me invece è sufficiente alla settantaseiesima. Matriowski, per un milione di euro, tornerebbe a vederlo anche adesso? Sì. Ma sì. Ecco, vedi, quando si tratta di soldi. Lei è come il protagonista del film. Quando si parla di soldi, quindi, che dire. Dalle prostitute intellettuali. Assolutamente sì. A faccio di nerd ci sarà da ridere. Mi raccomando, magari quando è uscito questo video, la puntata ci sarà già stata. Ma dal The Space di Rozzano è tutto. Io sono il più euforico. Faccio una previsione. Questa è una di quelle volte in cui tu e il cugino Michele andrete d'accordo. Io lo so. Penso anch'io perché se Michele mi verrà contro questa volta, veramente gli taglio le ruote della macchina. Perché se no, Sorelloschi, lei ci ha già detto tutto. E niente, ci salutiamo e continuate a seguirmi. Ciao belli! È veramente difficile capire come iniziare questa recensione, soprattutto senza essere banali, senza portare avanti argomentazioni caratterizzate da ovvietà. Il problema è che ogni parola risulta superflua quando si parla di Scorsese. Sarebbe come descrivere il sole, oppure spiegare come ci si sente quando siamo innamorati. È un qualcosa di talmente viscerale, di profondo, di inspiegabile, che basterebbero le immagini. Quella forma che crea contenuto. Il cinema di Scorsese è l'arte pura, è l'essenza della settima arte. Come avrete capito, io ho idee differenti rispetto a Matioschi e sua sorella, con cui comunque ho visto volentierissimo il film al The Space di Rozzano e che anzi ringrazio e saluto. Dopo averci dormito su, ma soprattutto dopo tanti pensieri che mi sono fatto, non posso che constatare quanto dall'alto dei suoi 80 anni Martin Scorsese sia uno dei grandi registi rimasti ancora in attività, che ci ricorda cos'è il vero cinema. Lui, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Woody Allen, Michael Mann, Ridley Scott, sono questi enormi personaggi della storia del cinema che dovremmo stimare, abbracciare, dovremmo imparare a capire piuttosto che lasciarsi andare a giudizi superficiali, perché prima poi questo cinema dall'ampio respiro classico lo perderemo. Le nuove generazioni di registi talentuosi ci sapranno sicuramente sorprendere, ma alla sua ormai anziana età Scorsese, così come Spielberg con The Fable Man, torna dietro la macchina d'appresa e ci fa capire chi è il vero re, ci fa capire quanto ancora prevalga la sua arte, quanto riesca a sedurci, ad ammagliarci, a conquistarci. Killers of the Flower Moon è scritto dallo stesso Martin Scorsese assieme ad Eric Roth, premio Oscar per Forrest Gump, quel grandissimo film di Robert Zemeckis. Il film è tratto dal romanzo Gli assassini della Terra Rossa del 2017 di David Grenne. Dentro di me ho provato talmente tante sensazioni, un amore incondizionato, un qualcosa di indescrivibile da raccontare vedendo questo film che, duro fatica, la profondità di campo, ogni inquadratura sinuosa, studiata, ricercata ma mai banale, riesce a conquistarti e a trasportarti nell'Oklahoma degli anni venti, nella terra degli Osage, scoprendo che sotto quei terreni ci sia tantissimo petrolio, giacimenti petroliferi, tutti vogliono metterci le mani, tant'è che molte persone del posto, gli indiani Osage, cominceranno a morire. Chi è che sta cercando di impadronirsi di quei giacimenti petroliferi? Questa è una storia vera, che è stata narrata nel libro di David Grenne e che questa volta viene trasposta in un film dalla durata circa di tre ore e venticinque, diretto da Scorsese. Si potrebbe già iniziare a dire, eh ma dura troppo, eh ma mi sono annoiato, queste sono cose soggettive. È tutta questione di percezione, quindi rispetto e vi dico, se vi siate annoiati, mi dispiace tanto. Se fosse durato sei ore, a me questo film non avrebbe mai appesantito. Cosa vogliamo dire del cast? Solamente il pensiero di vedere recitare insieme Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, due degli attori fetici di Scorsese, è splendido. Era dai tempi di voglia di ricominciare che i due non calcavano la stessa scena. Nel cast poi troviamo anche Jesse Plemons, abbiamo Brendan Fraser in un piccolo ruolo ma incisivo, Lily Gladstone nei panni della moglie, Molly, di Ernest, il personaggio interpretato da Di Caprio, che è un veterano della Grande Guerra, era un cuoco di fanteria che torna nella contea degli Osage e che vivrà assieme a suo zio, il grande Robert De Niro, che interpreta William Hale, che darà a lui dei consigli per metter su famiglia e sicuramente arricchirsi, visto che gli indiani del posto hanno il predominio sul petrolio sottoterra. Solo che inizieranno questi misteriosi omicidi, quindi verrà anche mandato sul posto un FBI un po' acerbo, ma sicuramente desideroso di risolvere il caso interpretato da Jesse Plemons, cioè Tom White. La durata sicuramente può per alcuni risultare fin troppo lunga. Io ogni attimo mi sono beato di tutte le inquadrature, la profondità di campo lascia bocca aperta, ogni inquadratura ha un respiro così ampio, così esplicito, vediamo questi campi sconfinati, questi animali, queste praterie e quindi ci immedesimiamo là dentro. Per capire la grandezza di questo film dovreste andare in sala. Non è possibile dire me lo recupererò in televisione o sulle piattaforme. È come se faceste uno sfregio all'arte stessa, perché certe inquadrature, perché certi movimenti di macchina, perché la profondità di campo, perché la regia non risulterebbe efficace allo stesso modo su un piccolo oppure grande schermo di una televisione o di un computer, essendo una pellicola nata e pensata per il cinema. Costata 200 milioni, quindi ho già timore che vada male, però fate il possibile per sostenerla. È stata prodotta da Paramount e cofinanziata da Apple Studios, anche perché Paramount temeva che costasse troppo ed infatti non voleva arrivare ai 200 milioni. È stata distribuita poi da 01 Distribution, Leone Film Group, quindi c'è un grande sforzo produttivo e distributivo per portare il nuovo film di Scorsese nelle sale e non come è successo con The Irishman, altro secondo me film maestoso, che non trovò la distribuzione nei grandi circuiti commerciali dei multisala, bensì uscì per un breve periodo nelle sale di nicchia, poi fortunatamente a Milano al Cinema Beltrada è rimasto per dei mesi, però in tante altre città solamente come evento speciale per tre giorni e poi lo potevamo trovare su Netflix. Vedere un film di Scorsese su Netflix sarebbe, non lo so, come dire domani vada al mare e fare il bagno in una pozzanghera, uguale. Comunque, tutto ciò che vediamo nel film è tratto da una storia vera, perché negli anni venti del novecento purtroppo questi omicidi si sono verificati realmente, ci sono state tante morti improvvise che poi sono state ricondotte a determinate persone che volevano impadronirsi di questi giacimenti petroliferi. Ora, la storia, chi lo sa, già la conoscerete, ma non voglio rivelare niente perché magari tanti come me non ne erano a conoscenza e sono rimasti sorpresi, sono comunque rimasti ammagliati dal racconto così capillare e significativo del film. Sicuramente è una pellicola che si prende i propri tempi, ma questo non vuol dire che quindi risulti noiosa, assolutamente no. Le situazioni ci vengono spiegate, ci vengono ripetute da vari punti di vista. Poi ci sono tanti momenti in cui i dialoghi non servono perché le immagini parlano. Leonardo Di Caprio, nei panni di Ernest, il veterano di guerra, riesce a regalarci un'interpretazione sublime. Per tutto il film recita con il mento in avanti, quindi Di Caprio viene reso brutto, si vuole decostruire il mito del belloccio e si sta facendo da anni e anni e nuovamente conferma di essere uno dei più grandi attori della modernità, dell'attualità. Robert De Niro è un attore che passa da nonno scatenato, papà scatenato, ai film di Scorsese, è un maestro in tutto e per tutto, è un signore che senza alcuna arroganza, ma anzi con umiltà rispetta il cinema a 360 gradi, quindi lo si può vedere in Manuale d'Amore 3 di Giovanni Veronesi e poi in quei bravi ragazzi e poi nei film di Scorsese dei più grandi geni della storia del cinema. E questa è una cosa che per me soprattutto, che voglio fare questo mestiere, non può che essere un insegnamento. È un fenomeno, è un maestro, cioè in sala non potevo altro che apprendere, imparare quanto il silenzio parlasse, quanto la comunicazione non verbale prendesse il sopravvento. Come vi dicevo prima, ogni dialogo è come se fosse una pennellata di meraviglia, ma soprattutto se ci soffermiamo anche ad osservare i piani d'ascolto, i momenti in cui i personaggi sono zitti e comunicano tantissimo, non si può che confermare, che constatare quanto tutto ciò sia pura arte. Sia puro cinema, con la C maiuscola. Per questo trovo anche banale soffermarsi su argomentazioni del tipo è, ma dura troppo, che sono assolutamente comprensibili. Però dico anche, quando questo cinema più classico non esisterà più, quando, spero il più tardi possibile, non ci saranno più i vari Spielberg, con The Fable Man's, con West Side Story, con le ultime pellicole straordinarie che lui e altri maestri ci hanno regalato, quando non ci sarà più Michael Mann o Woody Allen, quando non ci sarà più Clint Eastwood che ha anche un'età, oppure un Roman Polanski e chi più ne ha più ne metta, quando questi maestri, Brian De Palma, cesseranno la loro attività, forse lo rimpiangeremo questo cinema. Vediamo oggi come oggi tanti talenti, tanti registi che si sentono forse in maniera troppo accelerata già arrivati e che quindi al terzo film cercano di comunicare cose che dovrebbero invece subire anche un brusco rallentamento cercando di lavorare anche con la figura di un produttore che potrebbe dir loro cosa funziona e cosa meno. Quindi oggi vedo molta voglia di esibirsi, di mostrarsi, di rendersi noti anche in modo un po' esoso. Questa cosa talvolta funziona, altre volte no. Poi però penso a Martin Scorsese, a Steven Spielberg, che alla loro età dirigono un film e nuovamente ci fanno capire quanto tutti i registi della nuova generazione possono stare zitti in un angolino e apprendere e imparare. E lo dico io che apprezzo il cinema di Ari Aster, che apprezzo il cinema di Eggers, che apprezzo il cinema di Damien Chazelle, lo sapete quanto Babylon l'abbia difeso con le unghie e con i denti e quanto secondo me Chazelle, così come altri registi importanti di oggi, potrebbero essere i figli di questa generazione di maestri come Scorsese e compagnia bella. Però alla fine tu scorgi questa figura anziana, ottantenne, che si fa piccola piccola, ma per regalarci un cinema grande grande. Non ne avrebbe bisogno, potrebbe godersi la sua pensione, leggersi un libro di fronte al fuoco, guardarsi un film in sala ed invece no. Continua a regalarci arte pura, ci fa capire cosa significa vivere per un mestiere. Questo film, in parole povere, è la rappresentazione di un tipo di cinema che ha fatto la storia e che continuerà a rimanere impresso nella mente di tutti. Ovvio, molte persone, specialmente i più giovani oggi, sono abituate a ritmi, a toni, a registri diversi, e va bene così, siamo nell'epoca dei cinefumetti, del fantasy, e non è questo un problema, anzi io per primo amo il cinema supereroistico. Però quel che mi dispiace è che sembra, per certe persone, che solo quel modo di fare cinema possa esistere. Ricordiamoci cosa vuol dire cinema classico. Ricordiamo cosa vuol dire anche un tipo di cinema con un respiro più ampio, più figlio della nuova Hollywood. Qua non sto a descrivere le inquadrature perché risulterei banale, ma vogliamo parlare della poesia, della delicatezza di ogni piano sequenza, di ogni long take, di ogni campo lungo, di ogni, che ne so, primo piano, di ogni piano d'ascolto, la comunicazione non verbale. Non bisogna insegnare a Martin Scorsese come si fa cinema. Forse siamo noi a dover apprendere e a capire cosa vuol dire il cinema stesso grazie ai suoi film. Prima di passare alla parte spoiler, vi invito ancora una volta ad andare in sala, sostenete questo film, anche perché poi non voglio sentire la mentele nel caso flopasse eh, ma i film di Scorsese escono come evento speciale oppure solo su Netflix siete voi i responsabili del futuro di un certo cinema. Se questo film guadagnasse tanto quanto un endgame, cose impossibili, è però per farvi capire estremizzando, se questo film facesse staccare tanti biglietti e aiutasse gli esercenti e fosse un botto al box office, state tranquilli che tutti i prossimi film di Martin Scorsese o di qualsiasi altro grande regista li potreste vedere in sala. è ovvio che quando tutto va male si punta sulla piattaforma streaming perché altrimenti l'alternativa è non vedere niente. Quindi non lamentatevi e basta. Avete la possibilità di sostenere il film. Già Silence l'avete fatto andare malissimo ed è straordinario. Io ricordo ancora in sala ero con mio padre e forse due, tre persone. Silence di Scorsese. Non fate gli stessi sbagli. Avete adesso la possibilità di dimostrare che avete a cuore il cinema, la sala ma ce l'avete a cuore realmente? Chiusa parentesi. Che dire, vi ricordo di seguirmi sulle mie pagine social i link sono qua sotto nella sezione info così come voglio ricordarvi di abbonarvi al canale perché se deciderete di abbonarvi riceverete poi in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un caro saluto e andiamo con gli spoiler. Dunque, sono ancora emotivamente scosso, ho provato così tante emozioni e sensazioni diverse che è difficile cercare di contenersi. Il film riesce ad essere gigantesco sin dal prologo. Pensiamo alla sequenza in cui Ernest arriva nella contea degli Osage e vediamo queste inquadrature, queste panoramiche su campi sconfinati, animali, tu sei trasportato lì dentro in quel mondo, c'è un respiro così ampio, c'è una magnificenza così esorbitante, visivamente parlando che non puoi far altro che restare ammaliato. Non conoscendo la storia vera, mi sono affezionato ai personaggi, ho apprezzato ogni dialogo, ma soprattutto non credevo che ad un certo punto ci schiaffassero in faccia la realtà dei fatti, dicendoci che gli assassini non fossero nient'altro che William Hale e i suoi uomini, quindi Robert De Niro, che tenta anche di corrompere Ernest facendolo sposare con Molly, bravissima, bravissima Lily Gladstone ed intanto muoiono le sorelle, bisogna uccidere anche i mariti per impadronirsi del denaro, per impadronirsi dei giacimenti petroliferi. Il film diventa anche un vira anche verso il tribunalistico nell'epilogo. Si parla di manipolazione, William Hale, lo zio a capo della massoneria in un periodo di rivolte razziali, in un periodo dove queste morti avvenivano sempre di più e dove l'FBI cerca anche di risolvere questo enigma nebuloso ma al contempo sensato se ci facciamo caso perché gli americani vogliono mettere mano su questi pozzi petroliferi e sono disposti a tutto. È lì che andiamo incontro al gangster movie di Scorsese, conseguenze che ci riportano a Casinò, che ci riportano a quei bravi ragazzi. Quando la violenza spunta ce la ricordiamo, riesce ad essere vivida nella nostra mente, riesce ad essere cattiva e ben diretta come sempre sa fare Martin Scorsese. Poi arriviamo all'impianto più tribunalistico, quanto sono belle anche tutte le sequenze dell'interrogatorio, William Hale in cella che tenta di tenere sotto scacco e sotto controllo Ernest manipolandolo con le persone che non sanno come comportarsi e iniziano a parlare, quello è il finale di quei bravi ragazzi, la perdita anche del controllo, la rassegnazione, per non parlare anche di come in certi momenti il grottesco, il cinismo, ma anche l'ironia possa prendere il sopravvento. Io ho amato la scena in cui scopriamo che una delle sorelle al momento della morte fosse incinta e William Hale che guarda Ernest dice era mio e Leonardo di Caprio che resta con una faccia quindi ci sono anche degli spruzzi ironici qua e là di questa ironia cinica sicuramente nera ma che riesce a amalgamarsi perfettamente nello stile del racconto dove il classicismo prende il sopravvento dove ogni inquadratura è poesia pura dove le cose vengono ripetute da vari punti di vista ma non risultano mai ridondanti non ci sono spiegoni che non vorremmo ascoltare ogni discorso risulta essere accattivante i dialoghi li ascolteresti continueresti a sentire quel che dicono i protagonisti anche il personaggio dell'FBI quindi Jesse Plemons è fantastico arriva in scena dopo quasi due ore di film ma il faccia a faccia con Ernest Leonardo Di Caprio sulla porta il momento in cui arriverà a capire cosa sotto sotto stia succedendo e quindi quando va a arrestare Ernest il pentimento la morte di una delle bambine del nostro Ernest e di Molly che lo farà sprofondare in uno stato comatoso di tristezza e depressione guardate a livello recitativo quando Di Caprio scopre che sua figlia sia morta e crolla lì per lì si vede che cerca di assorbire il colpo ma non ce la fa e poi crolla in terra si sposta l'inquadratura verso l'altra cella scopriamo che William Hale è lì accanto a lui un William che finge di essere dispiaciuto per la morte della bambina ma in realtà sa bene che con questa brutta situazione avvenuta Ernest potrebbe testimoniare quindi lui potrebbe andare nei guai cioè quel momento lì è tutto suggerito non c'è nessun momento didascalico di troppo in sceneggiatura è tutto suggerito dalla comunicazione non verbale dalla grandiosità di questi attori monumentali iconici insieme De Niro e Di Caprio sono pazzeschi per non parlare poi del piano d'ascolto di tutti i personaggi durante il momento dell'inchiesta tribunalistica anche Brendan Fraser lo vediamo poco ma è senz'altro incisivo il primo piano di Ernest Leonardo Di Caprio mentre rivela la realtà dei fatti indica al processo William Hale con tutti gli avvocati che cercavano di invece difenderlo cercavano anche di manipolare perché è un film che si basa sulla manipolazione ad un certo punto William Hale diventa il Don Pietro Savastano della seconda stagione di Gomorra cioè è il manipolatore il burattinaio e tutti sono suoi burattini fino a che Di Caprio non diventa il re iliotta della situazione di quei bravi ragazzi e quindi tutto cambia tutto cambia e poi ci avviciniamo e restiamo sorpresi grazie ad un epilogo in cui siamo su un palcoscenico anni dopo e possiamo assistere alla rappresentazione di quel che è accaduto quel che noi abbiamo visto viene raccontato viene recitato con un microfono sul palco con le persone che fanno i rumori sonori i rumoristi io lì non ci volevo credere per la bellezza con cui questo film si conclude solitamente no? siamo abituati a schermo nero e le solite frasi che ci possono dire quando muore il personaggio protagonista cosa è accaduto negli anni dopo oppure altre volte c'è la voce fuori campo qua la genialità discorsese che fa un discorso metanarrativo allucinante con lui stesso che sale sul palco a recitare cioè ragazzi cosa vogliamo dire che conclude il film con questa poi bellissima inquadratura degli indiani Osage che possono godersi quel petrolio che gli spetta che possono vendere ai proprietari terrieri è un film che comunque parla della cattiveria dell'uomo del marcio dell'uomo dell'uomo bianco che si sente sempre superiore e che tenta quindi di essere portatore di verità assoluta e come al solito sovrastare i più deboli i più deboli che possono avere una seconda possibilità una rivincita dopo però che purtroppo tanti ne sono morti anche all'inizio quando quasi in una sorta di inchiesta documentaristica ci vengono presentate le foto con la voce fuori campo in bianco e nero le immagini e ci vengono praticamente rivelate le identità delle persone morte tutte ventenni anche se ai tempi sembravano avessero 63 di anni però anche l'età che cambia come un ventenne negli anni 20 del 900 possiamo capire com'era in quei tempi oggi invece è tutto diverso quindi non so cos'altro aggiungere se non confermare che sul finale ancora di più abbia provato fomento emozione era bocca aperta non mi aspettavo la partecipazione di Scorsese non mi attendevo quell'epilogo con la spiegazione della fine che hanno fatto i personaggi ma Killers of the Flower Moon rifacendosi alla storia vera è un film di inchiesta è un film storico è un film magistrale poi in molti altri modi avrebbero potuto raccontare questa storia ad esempio parlando con Matioski a tutti e due è venuto in mente il film Ted Bundy fascino criminale a cui non davo due lire e che invece ho amato con Zac Efron protagonista in quel film pur sapendo che Ted Bundy in realtà fosse l'assassino noi dubitiamo della sua colpevolezza perché è tutto dal punto di vista della sua compagna che non ci crede fino alla fine anche qua magari noi potevamo sapere che gli assassini fossero William Ailey i suoi uomini e che fosse e che facesse parte di questo gruppo anche Ernest ma immaginatevi quanto sarebbe potuto essere interessante se mostrandoci la storia dal punto di vista della donna avessimo avuto dei dubbi magari non ci avessero dato delle risposte o solo alla fine poteva essere un'altra chiave narrativa interessante però io non sono deluso dalla voglia di mostrare subito sul piatto i fatti e rivelarci la verità anche perché tu guardi il film da un altro punto di vista a un certo punto si torna indietro e quindi vediamo degli omicidi come sono stati commessi quegli omicidi come sia stato possibile uccidere quel determinato personaggio l'altro ancora la sorella e ci resti male quando capisci che sin dall'inizio William Hale come un burattinaio avesse organizzato tutto questo è un film di una profondità incredibile e so che più ne parlo più risulterei adesso ripetitivo quindi non posso far altro che inchinarmi di fronte ad un maestro e quando mi chiedono cos'è il cinema Paolo rispondere Killers of the Flower Moon grazie 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 grazie